Com'è? Com'è la giornatina, massimo. Adesso ci andiamo a fare la pista, quella che dicono si era tutta la piccante d'Europa. Andiamo per Tower, per i Tauri Inferiori, la zona dei Tauri, austri e mondialmente, e quindi adesso andiamo a fare questo muro verticale, forte, che si va a guardare là davanti, una grande impressione, adesso vediamo che si alzi sotto, andiamo a prendere due impianti per arrivarsi, il secondo con Vintage, come si è confatto per vedere, un po' estremo, incastrano il busto dell'impiantino, Vintage, dà una grande affluenza, tutti fatti che ci vanno! Il secondo lesto, il secondo è stato fatto, e che è stato molto buono! La Gamsliten 1, vedete le vostre spalle, sono arrivati, adesso andiamo a prendere la Gamsliten 2, quello lì è l'ultimo muro, vedete l'attacco in cima, praticamente ci stavamo così, adesso andiamo a vedere, vedo che! Andiamo a vedere quello che è! Andiamo a vedere! si sta già gobbando forse ho aspettato anche troppo prima però è troppo ghiaccio adesso andiamo su dei viaggi sarà un lungo viaggio un po' lungo 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 viaggio quando l'anno comunque c'è tutto direi l'Austria è l'Austria siamo a un buon punto del viaggio ma io praticamente fino adesso ho cose così impegnative come non le ho viste poi adesso devo fare delle cose non posso lasciarsi anche sulla rossa che non dire niente stiamo arrivando qua eccoci qua adesso il panorama il panorama viene in basso guardate che roba il resto è la pista che mi hanno fatto un po' di passaggio niente di passaggio bene detto ciò andiamo a vedere com'è sta roba andiamo a vedere com'è sta roba prima muro come avete visto sta niente impegnativo poi lo facciamo con calma ma vediamo a questa pista il dovuto rispetto ma come avete visto fino adesso abbiamo fatto ben di peggio la targa anche il picchio avventato qui ci va a stringere ecco qui c'è una il pericolo qui è dato più dalla gente impedita che dalla pista mi ricordo un po' l'aggancio della sua slong che ci va al champinois è stato un po' Ma però, è un punto veramente selvatico per andare giù. Proviamo, vediamo cosa succede. Qua sono le godde. Ok, il punto più verticale l'abbiamo passato. A me però è stupenda, con fortuna, questo non immagino come possa essere a farla ghiacciata. E abbiamo fatto anche questo. La pista l'avete vista? Fondamentalmente una cazzata. C'è solo quel pezzo là che è entrato veramente verticale. Sicuramente, come sempre, vista dalla telecamera che schiaccia non rende ma vi assicuro che non ho mai avuto paura a sciare di niente ma lì ho stretto un po' le chiappettine. Però, quando si usate con gaugia che la nere tiene, bella. Sicuramente, ecco, le nere. Diciamo, la nera è tritona, la nera è da primido. Non è sicuramente questa. A parte quel punto lì, ma quel punto lì poi ci può anche traipassare che c'è l'uscita. Le nere veramente nere. Neanche la piccolina. Le nere veramente nere. Le queste sono la Ford, ma sono lo spirale direttissimo alla parte finale. La variante Schumacher. La 14 disco. Quelle sono veramente nere. Questa qui è un fulettino lì da saltare, ma è stupidato. Per il resto, che dire, dopo un power. Molto carino. Però, vi dirò, c'è di meglio in Austria sicuramente. Almeno dal mio punto di vista. Sono gusti, eh. Però dal mio punto di vista c'è di meglio in Austria. Miste molto simili. Non troppo lunghi. Pianti belli, ok. Però, essendo molto caro, secondo me in Austria sono molto belli.